Andiamo a passaggio a tutti i giorni, a tutti i giorni, a tutti i giorni. Il Presidente dell'Unione elettorale, quindi, visto disposto dall'articolo 72,9 del decreto legislativo 18 agosto 2.267, in base al quale dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato alla telega che ha avuto il maggiore numero di voti validi, accettato che il signor Celedalberto Centinario ha riportato tra i due candidati alla telega del sindaco, ha messo a valutaggio il numero di voti validi maggiore, e cioè 11.288 voti validi. Quindi il Presidente ha proclamato e proclama alle ore 10.46 del 22 maggio 2012, eletto alla carica di sindaco del comune deniano il signor Alberto Centinario. Grazie, grazie molto. Grazie a tutti. 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 Per la lista numero 3 avete il contrassegno Rilegnano, sono proclamati i signori Davide Crepaldi, Antonio Sassi e Guido Nicolò Bragati. Grazie mille. La lista numero 5 avete il contrassegno di Pietro Italia dei Valori, sono stati proclamati i signori Raffaele Giordano e Rosario Compagnone. Grazie mille. Allora per la lista numero 16, Unione Italiana metà di sindaco, è proclamato il signor Alfonso Pocciolo. Per la lista numero 18 avete il contrassegno del popolo della libertà, sono proclamati eletti il signor Vitalio Lorenzo, il signore Luciano Vichi, Domenico Gangemi detto Mimmo Canceni, Daniela Colombo in bandiera. Per la lista numero 6 avete il contrassegno di un movimento 5 stelle, sono stati proclamati i signori Daniele Venti, di un movimento 5 stelle, sono stati proclamati i signori Daniele Venti. Per il gruppo di liste comprendete i seguiti contrassegni, quindi Malazzini sindaco, socialisti per Regnano, socialisti ecologici per la conventola, rifondazioni comuniste italiane, è proclamato il signor Giuseppe Malazzini. Penso che abbiamo terminato, io rivolgo io in bocca al lupo a tutti e buon lavoro. Scusate, i presenti per favore. Grazie. Grazie.